Sarà articolato in tre settimane dal 5 al 19 maggio la seconda edizione di prevenzione a tavola organizzata dall'associazione Insieme per rinascere. Giunta alla sua seconda edizione la manifestazione ha lo scopo non solo di mettere a nudo le abitudini malsane che si hanno a tavola ma anche e soprattutto come fare la spesa e preparare un pranzo senza avere problemi. Novità di quest'anno sarà una giornata l'ultima, quella del 19 maggio, interamente dedicata ai ragazzi dai 10 ai 14 anni. Dopo il successo della prima edizione la prevenzione a tavola dell'associazione Insieme per rinascere a breve partirà la seconda edizione che si terrà il 5, 12 e 19 maggio verso le cucine della chiesa Santa Monica di Nocere Inferiore. In questa edizione ci sarà una novità perché l'ultimo corso sarà dedicato ai ragazzi dei 10 ai 14 anni perché la prevenzione parte da piccoli e quindi in questa edizione abbiamo pensato anche a loro. Noi siamo dei pareri che la prevenzione fa tantissimo, non solo noi, le ricerche scientifiche dimostrano questo dato. È un corso teorico pratico, unico nel suo genere perché oltre a dare delle nozioni, con mano faremo, elaboreremo delle ricette. Parleremo della spesa, come strutturare un pranzo, una cena anche e soprattutto per le persone che lavorano, che semmai il tempo è veramente limitato, organizzare un pranzo preparando soltanto un piatto unico. Inoltre anche ai bambini insegneremo come mangiare cose gustose e genuine, non soltanto cibi fast food e snack spazzatura, che anche nei cibi sani c'è il gusto. Per info e prenotazioni visitate la nostra pagina Facebook Insieme per rinascere e vi suggerisco di farlo il prima possibile perché purtroppo i posti sono limitati e sono quasi terminati.